Arrestata una maestra di 57 anni, originaria del Cilento, ma in servizio presso una scuola dell'infanzia a Mondovi, comune di Cuneo. La donna era stata assunta come organico Covid. L'arresto è arrivato dopo le indagini dei carabinieri che hanno accertato violenze fisiche e verbali nei confronti di bambini di età tra i 3 e i 5 anni. L'indagine è scattata dopo che diversi genitori hanno documentato, anche con i filmati di videocamere nascoste nella classe, una condotta sproporzionata rispetto alla finalità educativa e lesiva della dignità dei piccoli alunni. Secondo l'accusa, l'insegnante, con modi violenti, li induceva con urla, ingiurie, minacce e percosse, in una condizione di paura e di soggezione tali da rendere loro la frequenza delle lezioni intollerabile. La 57enne cilentana è stata sospesa dall'insegnamento e si trova attualmente agli arresti domiciliari.